Uno straordinario cambiamento nella composizione dell'atmosfera e un altrettanto straordinario aumento della temperatura sono i due fatti che emergono con più allarmante evidenza nel quinto rapporto sui cambiamenti climatici stilato da IPCC, l'agenzia dedicata dell'ONU, che ha messo il termometro al nostro pianeta. La nostra difficoltà è cercare di capire cosa sta succedendo al clima mentre lui salta da tutte le parti. Quello che noi sappiamo adesso è che questo aumento di temperatura non è facilmente spiegabile con i salti naturali del clima quindi qualcuno lo sta spingendo e chi sta spingendo siamo noi con l'aumento dell'energia carbonica. Improntare decisamente nel senso della sostenibilità le politiche di sviluppo è imperativo categorico quindi e dello step successivo del lavoro svolto con simulazioni e la predisposizione di modelli di studio dai diversi centri di ricerca che hanno collaborato al report. Bisognerà ora utilizzarne metodologie e risultati per comprendere l'impatto dei cambiamenti a livello locale focalizzandoli sull'area chiave del Mediterraneo. Decisivo peraltro tra i 230 autori da 58 paesi l'apporto della struttura di supercalcolo del centro euro mediterraneo sui cambiamenti climatici all'interno del campus di Ecotecne. E proprio qui a Lecce per tre giorni gli studiosi del clima nel workshop voluto da Clima South lavorano sulle future strategie di adattamento. Un approccio che dovrà essere multidisciplinare perché molteplici sono gli impatti dalle risorse idriche al management delle costi al turismo e flussi migratori e che si potrà estendere anche l'analisi del fenomeno dell'erosione costiera. La lezione che noi abbiamo imparato a livello di far parlare comunità e discipline diverse in questi campi può essere utile anche in questo caso e quindi siamo pronti a fare la nostra parte.